Ok, per questo esercizio partiamo in posizione di quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino. Da qui la mano di un lato andrà a finire sulla mano opposta. Successivamente andremo a portare il sedere sopra i nostri talloni, portando la testa all'interno delle braccia. Mantenete questa posizione per il tempo indicato. Dopodiché ritornate in posizione di partenza e ripetete. Grazie a tutti.